Siamo con l'architetto Ambrogio Risari, che è consigliere della Fondazione Luce e sta curando un progetto di ampliamento. In cosa consiste questo progetto di ampliamento del centro e perché avete deciso di ampliarlo? Dunque, il progetto di ampliamento nasce dopo un'esperienza di otto anni di attività e di terapia per l'assistenza dell'autismo. In collaborazione con la Fondazione Piatti, che gestisce la struttura e che opera questo percorso riabilitativo per i bambini e anche adolescenti, abbiamo visto che la domanda è cresciuta molto, c'è una lunga lista d'attesa. Per questo la Fondazione Luce, che ha a cuore la promozione dell'uomo e nello specifico supporta questo centro che si chiama Mafalda Luce, ha deciso di ristrutturare un'intera ala dell'edificio e dedicare ulteriori 1.100 metri quadri a questa attività di supporto e di terapia per l'autismo. Questo è un centro che si prende in carico i bambini e risponde anche alle esigenze delle loro famiglie. Dal punto di vista architettonico, quindi della distribuzione dei locali, della destinazione dei locali, quali sono le caratteristiche del centro? Dunque, il centro opera con dei percorsi riabilitativi che prevedono delle funzioni legate a degli spazi, per cui è caratterizzato da una sorta di circuito che i bambini percorrono e lungo questo fil rouge che loro tre volte alla settimana percorrono in piccoli gruppi vengono stimolati sotto aspetti differenti a seconda dei diversi ambienti che attraversano. Quindi lo spazio è articolato secondo la forma del circuito per la parte di riabilitazione dei bambini. Poi c'è un'altra zona in cui verranno aperti degli ambulatori medici in modo da poter aprirsi ad un privato sociale e poter ampliare ulteriormente l'offerta per tutte quelle persone che non riescono ad entrare nella struttura accreditata dalla regione. In questo modo potremo arrivare ad avere diagnosi precoci e assistenza anche per chi non riesce ad entrare nel circuito riabilitativo. Da un punto di vista architettonico, progettare un centro come questo ha delle caratteristiche particolari. Come è stato mettere in piedi questo progetto? In generale la progettazione è sempre un percorso affascinante perché coinvolge la vita delle persone in questo caso particolarmente perché siamo di fronte a dei soggetti che hanno una sensibilità molto particolare che può essere un'ipersensibilità, un'iposensibilità e quindi il focus è stato esattamente quello dei bambini. Abbiamo lavorato in gruppo con gli operatori per cui si è costituito un gruppo di progettazione ed è stato affascinante lavorare con loro per riuscire a dimensionare e a calibrare questi spazi a misura dei ragazzi e di queste persone che hanno queste sensibilità così accentuate. Teniamo presente che una luce sbagliata, un suono sbagliato può essere motivo di una crisi per cui la progettazione ha tenuto conto di tutti questi aspetti ed è stata un'esperienza affascinante. Quindi tenere presente l'utente o il paziente in altre situazioni è il centro della corretta progettazione. Noi crediamo in questo e così abbiamo lavorato. Noi siamo in un momento storico particolare in cui si parla di rilancio e ripartenza della sanità e in cui ci saranno a disposizione risorse per investimenti importanti. Un modello come questo della fondazione luce che svolge una funzione anche sociale oltre che sanitaria, secondo lei può essere esportabile ad altre situazioni analoghe? Dunque la sfida che abbiamo affrontato con questo lavoro che stiamo svolgendo in questo momento è stata quella di uscire, andare oltre il nostro contesto, quindi non si tratta solo di progettare il nostro centro ma di studiare una metodologia e una relazionalità in modo da poter proporre un modello che sia riproducibile altrove. Per questo ad esempio abbiamo dialogato con l'università, non solo con quella di medicina ma anche con quella di ingegneria per studiare anche le nuove tecnologie perché le nuove tecnologie possono entrare in gioco in maniera importante all'interno del percorso terapeutico dei nostri ragazzi e quindi la risposta sicuramente è sì. Il percorso che noi abbiamo seguito si proponeva proprio questo obiettivo di poter elaborare un modello progettuale di squadra che possa essere riproducibile per situazioni analoghe o anche livellamente differenti nel mondo medico.